Supera i 60.000 euro il bottino dell'assalto al Bancomat della filiale di Banca Popolare di Bari in Viale Crispi a Mosciano Sant'Angelo. Un boato attorno all'1.30 della notte ha svegliato il quartiere prima che tre uomini fossero visti fuggire a bordo di un'auto scura lasciando dietro di loro un denso fumo e lo sportello della cassa continua della banca completamente distrutto. L'esplosivo infatti ha scardinato la cassaforte nonostante l'ingabbiatura che gli istituti di credito hanno deciso di adottare a protezione degli impianti dopo i ripetuti assalti degli anni precedenti. Portate via le cassette che contenevano banconote in tagli da 20 e da 50 euro. L'allarme è scattato immediatamente sul posto e è arrivata anche la pattuglia dell'Italpol Global Security l'istituto di vigilanza privato che si occupa della filiale di Mosciano. Della banda però non c'è nessuna traccia. I locali della banca sono momentaneamente inagibili, devastati dalla deflagrazione. Gli operai di una ditta specializzata hanno già iniziato a rimuovere tutto il materiale pericolante per ripristinare la funzionalità degli sportelli. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Giulianova, coordinati dal Maggiore Vincenzo Marzo, stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza sistemate all'esterno e all'interno della filiale per cercare di identificare gli autori del colpo.